La POV è stata rimossa per dei problemi, Overwatch è film. Ho letto che hanno tolto anche credo nel quick play i game assist, se i giocatori da console giocano in classificare con loco. Finistra. Siamo al poligono, quindi abbiamo il bot sulla sinistra. Quindi cos'è? Spazio porto sta roba? Ciao. Sono dentro al poligono io? Io sono qua con Davig. Mi sento. Ci sbuchi, ci incontriamo? Sì, ci sbuco davanti. Sparano anche da dietro. Sparano un po' ovunque. Sì, sono qua sinistra. Siavano vicini. Qua a destra. Ok. Credo da venne. Ma non muori? Che posto, Davig? Forse sì. Aspetta. Bendina, velocina. Sì, sì, l'hai fatta, l'hai fatta. Ok, perfetto. Oh, aspetta, 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 sì. C'è un altro, c'è un altro. Ma non spara a noi, dino. Non lo so, l'ho sentito vicino il colpo, proprio sulla mia traiettoria. Questo c'è un'armatura migliore della mia, aspetta un attimo. Se siete trovati pre-hit superiore, sai, ditemelo, eh. A chi lo dici? Testa azione com'è che si chiama? Cos'è questa? Ok, arrivo. Dai, che mi sono fatto un player, devo rudare. Non vedo niente. Sa qua, accanto a me, sa qua, accanto a me. Sì, è lì dietro. Porco Dio, che male, per sparare a te, ma faccio una sparata a me. Fatto. Tacci su, che male. Ia ti sta pushata, coglione. Eh, se trovate bende. Però, 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 stava fai tanto con qualcun altro, quindi c'è un altro team. Che ho ucciso io, mi sa. Oh, c'è un... Eh, non c'è ciò che ho appena preso. Quello è un bot. Vabbè, o magari stavi fai tanto contro un bot, ha fatto sta, stava fai tanto con un altro. Ma i bot, sì, c'è... È un player. Qua dove siamo arrivati noi. Ok, ok, ok. Credo sia in meglio. Pusho. Quasi fatto. Sono due. Ricarico. Vi aspetto quando passano da sopra. Fatto. C'è un altro sulla destra. Ricarico. Ricarico. Picca, stronzo. Picca. Picca. Picca, stronzo. Allora mi tiro un... Un schizzino. Dov'è da view? È al fire range, uno. Attento, c'è uno vivo al fire range. Era sulla sinistra. È lì, è lì. Lo sento. Ricarico. Mi curo. Lo sento. Come si fa? F1. F1. Quanti cazzo sono? Ma a passare da qua? Da... La reservation deck? Ma quello che ho fatto era l'amico suo? Boh, mi pare strano. No, niente. Non si può da qua. Ma sta qua dietro. Forse sono due però Che faccio? Pusho? Buffo? Tanto io da verde c'ho poco Per i push e gli spot E proviamo gli agip a farceli Eh io devo sempre sacrificarmi però E' appena detto te Vaffanculo E' sulla destra dietro il fire Sono due, sono due, sono due Sono un HP, sono un HP Aspetta, addirittura Cos'è pusho? Da sotto dalla rampa L'ho fatto uno Eh l'altro Di nuovo davanti a me Dylan T'ho ucciso io probabilmente No mi ha ucciso lui Mi ha ucciso Cooper A me ha ucciso me per mano di Cikita Mi ha ucciso te Cooper Io? Eri sulla rampa? Ero sulle scale Sì quello lì che hai detto ne arriva uno da dietro Ma io non ho sparato a nessuno Cioè dalla rampa c'era uno Ma c'erano tre persone No no Allora aspetta aspetta Ciao 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 Grazie a tutti.